segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te abbiamo detto cosa sei cos'eri come come figlio e come padre che parli è un problema grosso lì nasce un problema che sei come tuo passo mi ha parlato anche ieri già quando abbiamo parlato di ettore d'andromaca un problema che è tipico cioè quando hai un grande passione per il tuo lavoro che non è un lavoro è proprio una passione quello di andare in giro a cantare a farsi anche il desiderio di farsi sentire di quello che è nell'anima eccetera ti porta via sacco di tempo a casa alla famiglia alla situazione ma è una situazione universale questa di tutti i film della letteratura la ma la madre la moglie che dice no tu stai come andromaca la moglie che dice tu stai qua stai nella famiglia c'è tuo figlio e ettore che risponde no io ho una missione nel mondo ettore andromaca sono un'altra cosa io sono molto più piccolo ma è proprio era desiderio mio quello di andare fuori a cantare e ho perso un po di spazi con i miei figli però devo dire una cosa questa devo dire prima che l'ho sentito negli ultimi anni sono stato molto con loro molto di più l'ho sentito e quando glielo confessato perché si confessano queste cose ai figli ho detto ragazzi io vi ho dato soltanto non ho saputo darvi altro sogni e gioco e divertimento la vita anche un gioco e scusatemi per il resto e loro mi hanno risposto era quello che volevamo e io sono stato felice stiamo vedendo questo post di Dodi questa foto non voglio commentare chi è quel signore vicino ma questa non ci voleva proprio queste dodiche il mio figlio e Dodi dice l'aposto pa non è un po troppo giustamente lui si fa degli scupoli lui e tu dici troppo un papà col figlio può fare quel che vuole senti nel libro nel libro parli di una di una di una telefonata terribile che ti arriva una notte di aprile dell'anno scorso e quella che segna una differenza tra la vita di prima e la vita di dopo i miei figli sono quattro stagioni ho quattro figli guardate che bello adesso devo dire che tra le quattro canzoni che ti sono venute meglio sono queste sono tutti e quattro qui sono tutti e quattro vivi anche se uno non c'è più qui non facciamo televisione del pianto del rimorso lasciamola agli altri che non me ne frega niente di quelle cose dico cose seri vere io sento anche questo meraviglioso ragazzo che vedete a sinistra che veramente un meraviglioso ragazzo era un poeta straordinario però c'è c'è stato un problema che il mondo non si meritava uno bello come lui se lo doveva meritare non era lui che doveva meritarsi il mondo e un certo giorno se n'è andato se n'è andato perché il mondo non era roba sua ma per me è sempre qui lo strazio e per sua madre strazio continua perché ho una madre una madre ha sempre è sempre dimezzata cioè l'altra metà della anche di più della metà del suo cuore e per i figli noi padri siamo un pochino meno così ma una madre quando la cosa più brutta che possa esistere al mondo e perdere un figlio la più brutta non esiste morte che perché altro non esiste parola ma non è finirlo per lo stato comunque c'è una cosa siamo la tv del dolore che non è roba nostra io questi quattro ragazzi sono quattro stagioni la prima lassù francesca che era più grande altre carolina questo a destra è quel lo vedi girare anche tu si chiama edoardo ed è il più giovane ecco l'altro arrivo una primavera chi è la primavera primavera carolina l'estate francesca l'estate d'odi francesca e l'ottuna e l'inverno è è parigo parigo è il mio dolce inverno è un inverno con l'aniverso che sta su ma sotto la neve c'è sempre qualcosa no l'erba cresce continua a crescere la vita è eterna e meravigliosa io lo penso tutte le notti e non lo penso lo vedo vivo nessuno se ne va il cuore è così è una cosa stranissima più cose gli metti dentro e più sono larga non ha mai un confine tutti gli amori che hai ci stanno dentro ci stanno alcuni più grossi alcuni piccolini nell'angolo ma io potrei averne anche cento gli amori e io amo tutta l'umanità e tutta l'umanità potrebbe starci nel mio cuore poi lo spazio più grande per loro l'hai citata prima